Esatto, è andato proprio da questo perché hanno tantissimi set che vanno a girare lì e loro per carità ne aprono le porte, anzi si divertono pure tantissimo, però in particolare con un paio di figure chiave ci siamo detti ma perché non raccontiamo la vita di chi vive qua realmente? Quindi c'è stato pian piano un patto di fiducia costruito in tantissimo tempo perché per questo tipo di lavori documentari in generale non si possono far di fretta e soprattutto bisogna osservare tanto, questa è una cosa che ho capito, quindi ho cercato di capire chi potessero essere le persone più adatte a fare un percorso del genere tra tutte le persone che stavano lì nella comunità e pian piano con quelle lì ho Franca Vannini in primis ma anche Don Fabio, il prete, si è instaurato un dialogo e una fiducia per cui questo percorso l'abbiamo fatto insieme, è durato un momento la carta di presentazione che mi sono dovuta giocare, passato quello è andato, è stato bellissimo, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento in realtà, anche perché poi dovendo immaginare un'anteprima italiana questo era proprio il massimo dell'aspettativa, uno perché parla molto ai giovani e questo film ha tantissimi giovani come protagonisti quindi instaurare questo tipo di confronto e dialogo per me era importantissimo, due perché ovviamente è partito da Roma, quindi chiudere questo cerchio per me era importantissimo e soprattutto è la prima proiezione che facciamo in sala, quindi anche se ha girato in altri festival fuori dall'Italia questa qua è la prima fisica mondiale per noi, quindi l'emozione è tantissima e per questo film ha un valore molto grosso anche perché appunto come dicevi parlando di romani, molti romani non conoscono l'Itor Scalo, non lo conoscono bene e oltre alla realtà specifica del luogo è un film che dà anche la possibilità diciamo di allargarsi a delle riflessioni di temi più ampli che hanno a che fare per me col concetto di comunità proprio, di cosa vuol dire vivere in una comunità e lì c'è una comunità molto forte No, i ragazzi sono molto integrati nella zona e anzi la spontaneità con cui vivono i rapporti di amicizia anche per questo parlo tanto di comunità perché ho trovato soprattutto nelle generazioni ultime un tipo di condivisione del quotidiano che sì è vero hanno i cellulari eccetera, però comunque il tempo del loro quotidiano è passato sempre in compagnia non si chiudono nelle loro case, appartamenti, nei palazzoni eccetera perché le loro case sono tutte una attaccata all'altra e quindi si sta insieme e questa è una cosa molto bella che penso aiuti anche a sentirsi radicati a non volersene andare perché hanno dei legami molto molto forti i genitori, i nonni chiaramente hanno anche un tipo di coscienza su tutte le lotte che sono state fatte e anche di apprezzione penso per i più piccoli e per i più giovani per cui fanno più battaglie hanno un po' più di pensieri da questo punto di vista noi ci aspettiamo innanzitutto un dialogo, una possibilità di dialogo maggiore perché qualsiasi sia la strada, qualsiasi siano le scelte, diciamo coinvolgere chi vive nel luogo penso sia la cosa più importante ancora su questo, diciamo non si sta andando in questa direzione però spero che questa occasione anche del film sia una possibilità per avere un'apertura in questo senso anche perché la comunità vuole parlare, vuole anche esprimere quella che è la loro idea del luogo che è quella di avere un borghetto aiutato anche dalle istituzioni perché ancora c'è molta anarchia non voluta da chi ci vive ma in generale dalla situazione quindi io da lì ho imparato cos'è veramente e quanto è importante sentire il proprio luogo in cui si vive a livello di radici, di identità e anche prendersene cura anche se la situazione non è delle migliori, non scappare perché è vero molti se vogliono andare via però la maggior parte vuole restare ma in condizioni migliori, quello è il problema quindi auguro questo alla comunità